Spari a Capodanno a Rosazza. Le testimonianze sono state acquisite dalla procura di Biela e dei carabinieri che si stanno occupando del caso e che hanno iniziato ad ascoltare i presenti alla festa. Alla festa infatti al momento dello sparo erano rimaste circa 20 persone, bimbi compresi. Era circa a 1.30 di notte quando lo sparo partito dalla mini pistola del deputato Emanuele Pozzolo ha ferito lievemente a una gamba il genero di un agente della scorta di Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia. Chi c'era racconta momenti di panico. Alcuni hanno cercato di tranquillizzare i bambini mentre altri hanno allertato il 118 per soccorrere il ferito alla gamba. Luca Campana, 31 anni di Candelo, portato poi in ospedale a Biela e dimesso il giorno dopo. Ed è proprio dai dettagli, dai testimoni che gli inquirenti cercheranno di costruire quanto accaduto. Sarebbero stati proprio alcuni presenti ad asserire che il deputato Emanuele Pozzolo avrebbe tirato fuori l'arma. Ma come si è partito il colpo accidentale è quanto resta da chiarire. Agli atti c'è però il fatto che il deputato nega di aver sparato. Dai carabinieri del RIS di Parma si attendono gli esiti dell'esame per cercare la presenza di polvere da sparo sulle mani sugli abiti di Pozzolo. Abiti che comunque il deputato non aveva consegnato, invocando l'immunità parlamentare. Ed intanto con un comunicato alla proloco di Rosazza che aveva affittato i locali dove è avvenuto l'increscioso episodio, respinge l'immagine distorta di Rosazza quale luogo selvaggio, presentato come una sorta di far west, contraddistinto da una presunta abitudine all'uso delle armi. Ribadiamo che Rosazza è un borgo magnifico, ricco di storie e di tradizioni, abitato da una popolazione leale e onesta che non merita di essere erroneamente dipinta come una terra di pistoleri. Nel contesto attuale la proloco di Rosazza, rappresentata dal suo direttivo e dai collaboratori, desidera esprimere solidarietà al sindaco Francesca del Mastro. Confidiamo, ancora aggiungono, che i riflettori si spengono presto, consentendo a Rosazza di tornare al suo splendore abituale.